da dove vieni sono nuovo di qui raccontami di benedetta da quando è che state insieme noi non stiamo insieme tu sei innamorato di lei sì non esiste una donna che non può essere conquistata io voglio che benedetta si innamori di me impara a capire chi è dai suoi sguardi da quello che le piace dalle cose di cui si circonda ho capito come col poker che bisognerebbe guardare prima chi davanti poi le carte la seduzione un'arma sottile che parte da lontano vivi sasha vivi mi ricordo il modo in cui mi guardavi se non fosse l'occasione che aspettavo da una vita io quanto ti serve tu mi devi dei soldi a una partita a chi ti servono questi soldi a chi ti servono questi soldi e io che ti credevo un bravo ragazzo io ho fatto esattamente quello che mi hai detto di fare tu mi ricordo è vero che non esiste una donna che non possa essere conquistata che mi hai detto di fare tu Grazie a tutti